La ventottesima giornata di promozione si aprirà con un ricco menù di anticipi, esattamente 5. A meno tre giornate dalla fine i giochi sono ancora del tutto aperti, e a dimostrarlo è stato il sorpasso della Bois Vairano a discapito del Baranello. Proprio l'ex capolista, dopo aver mantenuto il primato per settimane, ha ceduto 4-2 al Montenero. Domani, l'undici di mister Viglione, scendere in campo per il big match casalingo proprio contro la Bois Vairano. I campani a più tre dall'avversario, grazie al successo di misura sul riccio, sono saliti al comando della classifica. Se la squadra del presidente Scalera dovesse aggiudicarsi lo scontro diretto, il sogno eccellenza sarebbe sempre più vicino. Baranello Bois Vairano sarà diretta dal fischietto del signor Palmerino, esposito della sezione di Termoli. Sul terzo gradino del podio, l'eserne fraterna, dopo essersi imposta agevolmente per 17-0 sul fanalino di coda, l'altile a Samnium affronterà domani la trasferta a Mirabello, dove la Juvenessa ha ceduto a sorpresa sul campo dello Spinete. Juvenessa eserne fraterna sarà diretta dal signor Piano della sezione di Campobasso. Prosegue il periodo positivo per il Montenero. I basso molisani, reduci dal successo sul Baranello, domani affronteranno la penultima trasferta stagionale, che li vedrà di scena a Rocca Ravindola. I locali hanno ceduto 4-0 a vantaggio del Forulum e domani avranno voglia di tornare al successo e raccimolare punti salvezza fondamentali. Sarà il fischietto del signor Corbo della sezione di Termoli a dirigere i 90 minuti tra Rocca Ravindola e Montenero. A proposito dei giallo azzurri, attualmente in zona retrocessione, la squadra di Forli del Sagno è pronta a dare continuità nei 90 minuti di domani in casa del Morcone, diretti dal signor Michele Di Carlo della sezione di Termoli. Per i campani attualmente quartultimi, la situazione è stata aggravata anche dall'ultimo K.O. subito per mano del Trivento. Ultimo dei cinque anticipi in agenda è quello previsto al Poce, tra il Riccia e la Polisportiva Calena, diretto dal signor Petra Ione della sezione di Campobasso. Rispettivamente quinta e penultima in classifica, le due compagini sono reduci da una sconfitta e quello di domani sarà uno scontro decisivo per delineare i loro rispettivi destini. Fischio di inizio previsto alle ore 15 per tutti gli anticipi, ad eccezione di Riccia Polisportiva Calena, che inizierà un'ora più tardi.